Volkswagen è presente qui a Padova per festeggiare 40 anni di Golf, un'auto che è sicuramente un'icona nel panorama automobilistico mondiale. Siamo qui per festeggiare con i nostri clienti che hanno scelto la Golf nei suoi 40 anni di storia. Soltanto due numeri, 2,4 milioni di clienti italiani che ci hanno scelto e 7 le generazioni che festeggiamo qui a Padova. Quindi sullo stand dalla prima del 1974 fino all'ultima arrivata che festeggiamo oggi con un pacchetto speciale, un quarantesimo anniversario per mantenere viva la passione che è sicuramente la prima ragione di successo di questo modello incredibile per la storia di Volkswagen ma non solo. Grazie a tutti.